Anche il cameriere ha sempre ragione. Ciao. Senti Alfredo, fai come vuoi. Io stasera vado a ballare alla Perla Nera. Uè, c'ho quattro donne, quattro. Pensa che vieni anche a mani della Sloga Bigoli. Osti, che bello ambientino. Beh, insomma, vieni o no? Altro che Sloga Bigoli, io le ragazze le voglio belle come sulle mie riviste. Allora rimani in camera. E poi io le cose o le faccio al massimo o non le faccio. Allora io ho dovuto dirci che se non la smetteva di fare il furbo con mia figlia, ci segava una gamba, capito? Porca vacca, che lasarucca c'è in giro. Questo tuo discorsino non fa una grinza. Per forza. Un cistano persino a freddo. Dai su, lasarucca. Non posso, aspetta una telefonata della fettuccia di Terracina. Se sposi la graziella e fai il tuo dovere di uomo. Uomo, ma io non sono ancora un uomo, sono un ragazzo. Cosa crede che io faccio i salti di gioia? Pensavo che graziella avesse più gusto nella scelta. Esatto, è quello che dico anch'io. Si potrebbe cercare con più calma magari dell'ambiente del ciclismo, dei carabinieri e anche del circo. Lettoli, lasaruc. Allora la sposi la mia bambina, sì o no? Sarà una bella cerimonia. Vuoi tu, Alfredo Riva, prendere la qui presente, graziella, l'uraghi, come tua legittima sposa? Lei cosa ne pensa? Sa, queste sono cose che rimangono, eh? Ti seguo una gamba. Sanremo, Sanremo, sì. Andate a Sanremo, sì o no? Vicino Sanremo. Fai attenzione a mia figlia. Sì, ciao papà. Raccomando, trattala bene. Sì, sì. Alla felice, se no ti seguo una gamba. Sì. Allora, in che albergo andate? L'albergo è entrato in Sanremo, Miralago, no Miralago, Miramonti, no, o bella spiaggia o Miramare. Ciao. Telefonatemi. Come cazzo siete? Vi ho cercato per tutto Sanremo. Siamo in Giamaica, papà. In Giamaica. Deo, tali di banana. Non cominciare con le stronzate. Dov'è la Giamaica? Allora, guarda, non ti puoi sbagliare. Tu parti da Via Monte Napoleone, poi vai sempre diritto. Papà, papà, è un posto bellissimo. È quello dell'Am dei Caraibi. E poi Alfredo si prende molto cura di me. Ah, sai, stasera mi porta a vedere il limbo. Il limbo? Sì, sì. È stasera il limbo. Eh, ciao paparino, come stai? Non fare il cordiale, lazarone. Tanto lo so che ti sto sulle bale. Come tu stai sulle bale a me. Fai divertire la Graziella, altrimenti ti seguo via una gamba. Sì. Messaggio ricevuto. Sì, sì. Siamo veramente felici. È una coppia indovinata, una famiglia ideale. Ciao paparino. Ciao, stronzo. Graziella. Sì. È l'ospedale. Cosa è successo? È il mio amico Luigi, ha avuto un incidente con la macchina. Bisogna che vada assolutamente a vedere come sta. Vengo anch'io, no? No, no, tu resta qui. Se tuo padre sapesse che ti ho rovirato una serata, mi seguo una gamba. Non preoccuparti, torno subito. Vado e torno.